Il vasto Girardi espugna 3 a 0 il terreno del Notaresco realizzando tre gol subito nella prima metà del primo tempo con altrettanti contropiedi. Il Notaresco parte subito all'attacco ma in maniera sterile e così arriva subito la doppia doccia fredda all'ottavo. Macni se ne va per via centrale e lascia appena in area a Grandis che dopo il primo tiro ribattuto insacca lo 0 a 1. Passano solo due minuti, altro contropiede, palla in area per Hernandez e il raddoppio del vasto Girardi 0 a 2. Il Notaresco prova a reagire al sedicesimo, Mercado a porta spalancata su traversone di Bartoli, cicca il pallone a centroarea e al diciottesimo il tiro dal limite di Scimia è respinto in angolo da Petriccione. Al ventiseiesimo altro contropiede e altro gol degli ospiti, rilancio dalla propria difesa del vasto Girardi con Macni che si invola a insaccare lo 0 a 3. Il Notaresco non si arrende al trentasettesimo Romano, penetra in area dalla destra saltando avversari ma viene fermato al momento del tiro a centroarea e al quarantunesimo Bartoli sfiora il palo dal limite a portiere immobile. In chiusura di primo tempo al quarantacinquesimo nuovamente vasto Girardi con Hernandez liberato in area e fermato a tu per tu da Shiba. Nella ripresa il Notaresco continua a tenere il pallino del gioco, doppia opportunità al secondo con un colpo di testa al lato di Marchetti dopo la sponda di Romano e pochi istanti dopo con lo stesso Romano che in diagonale spedisce sull'esterno della rete. Al quarto ancora Romano insacca da due passi in spaccata ma l'arbitro annulla per segnalazione di fuorigioco. I rosso-blu continuano a spingere collezionando occasioni al quattordicesimo, Campestre in spaccata da posizione molto defilata colpisce il palo esterno e al diciassettesimo doppio miracolo di Petriccione sul Romano fermato su due conclusioni consecutive dal limite dell'area piccola. Al diciannovesimo altra opportunità per il vasto Girardi ma Shiba riesce a parare il rigore di Bentos distendendosi sulla sua destra. Poi al quarantacinquesimo nel finale un mischione nei pressi della linea di porta del Notaresco viene risolto in corner. Ultima opportunità per i padroni di casa al quarantottesimo con un diagonale di Kuki che colpisce il palo e si spegne poi sul corpo del portiere non concedendo al Notaresco neanche il gol della bandiera. L'importante oggi era vincere però sicuramente abbiamo avuto occasioni per arrotondare il risultato. Mi dispiace per i ragazzi perché Bentos, Fiori comunque si meritavano di far gol. Ci vuole un pizzico di cattiveria, quello su cui lavoriamo quotidianamente perché in queste partite qualche volta c'è mancato. Mi dispiace per loro perché quando c'è occasione di fare gol e sono bravi a crearsi queste occasioni è un peccato per loro che non riescano a segnare. Ripartenze no direi, costruzione dal basso. Sono cose diverse. Ripartenze è quando si lascia campo all'avversario. Noi non le abbiamo lasciate nel campo, andavamo a pressare alti e quando avevamo palla costruivamo e cercavamo di trovare gli spazi che ci lasciava l'avversario. Quindi no, ripartenze assolutamente no. Siamo stati bravi a prendere gli spazi che ci venevano lasciati. Siamo stati cinici. Dopo 27 minuti essere 3-0 potevamo fare il quarto entro fine tempo. Il rigore è stata un'ottima partita sotto il piano dell'intensità soprattutto su un campo che comunque non era proprio praticabile. No, se si sono sostituiti no perché abbiamo fatto degli errori però abbiamo fatto dieci palle e gole. Loro facevano i gol e noi sbagliavamo. Questa è stata una grande differenza, netta differenza. Quindi è naturale che qualche errore l'abbiamo fatto. Però qualche errore l'abbiamo fatto davanti. Loro la buttavano dentro, noi azioni su azioni e non siamo riusciti a buttarla dentro. Pali e altre cose però ripeto non ci aspettavamo assolutamente questo tipo di risultato. Quindi niente, continuiamo a lavorare. Venivamo da alcuni risultati e prestazioni positive. Dobbiamo lavorare su certi errori che abbiamo commesso, però ripeto, dobbiamo anche migliorare nel chiudere l'azione nel migliore dei modi perché ci arriviamo tantissime volte lì davanti e dobbiamo essere un po' più bravi lì.